ciao a tutti amici di youtube allora prima di parlare di quel che voglio parlare vi do degli aggiornamenti riguardo a windows e phone allora in pratica il problema facebook e cortana sono peggiorati non capisco il perché ma me l'aspettavo cortana in poche parole è dimmila più alla svelta più cioè più velocemente i contatti alla lista preferiti eccetera eccetera mentre facebook da il video che ho pubblicato in poi crasha in continuazione cioè crasha più più spesso ancora non capisco perché io aspetto ancora le vostre spiegazioni ancora non mi sono arrivate comunque sia alla faccia di chi dice che windows phone immune da malware eccetera eccetera cagate varie parliamo ora dell'argomento di cui sono meno portato di tutti dopo la politica allora quello che visto diciamo per descrivere è un mistero e voglio spiegazioni anche su questo la parliamo di giornalismo per la precisione di giornalismo di inchiesta avete presente quelle quel tipo di giornalismo che fa le iene e strisce la notizia riguardo la la politica e reporter con telecamere nascoste via e via dicendo allora vi voglio segnalare un giornalista che per me è un grande sto parlando di stefano salvi allora stefano salvi per chi non si ricorda che è un giornalista che non patteggiava mai per nessuna sponda politica neanche il movimento 5 stelle di centro è un giornalista totalmente imparziale al posto degli altri suoi colleghi che invece tendono a destra sinistra vi dicendo non posso parlare di quello altrimenti con licenziati eccetera eccetera via e via discorrendo poi magari a volte saltano pure fuori fuori politica come successo giovani totti eccetera eccetera stefano salvi era l'ex vice gabibbo di striscia la notizia e partecipò al programma dal 1994 al 2001 in questi sei anni lui faceva servizi ad hoc era più avanti rispetto addirittura a valerio staffelli a di miglione e via dicendo che saranno pur bravi ma secondo me salvi era era molto superiore molti in alto di livello e faceva dei reportage se voi vi andate ad informare su internet scoprire che faceva dei reportage ad hoc tipo argomenti di cui nessun telegiornale vi parla tanto per farvi degli esempi lui fece un reportage in iraq dove scoprì che per via dell'urano impoverito morivano ben 6.000 bambini al mese ripeto 6.000 bambini al mese a causa dell'urano impoverito sganciato dagli americani poi oltre a questo ci fu la famosa vicenda con d'alema che probabilmente al giorno d'oggi nessuno si ricorda cioè aveva scoperto che d'alema nel 1996 97 piena affittopoli d'alema aveva diciamo un reddito superiore a quello consentito dalla legge per avere una casa di un ente pubblico di ente pubblico stefano salvi era andato da lui a chiedere a chiedere le spiegazioni veniva addirittura malmenato e sequestrato la cassetta un macello avevano addirittura tagliato tagliato le dita c'è una cosa una cosa veramente orribile poi c'è la famosa super gemina dato dal 1995 con altre solite intervista avuta con con enrico cuccia eccetera c'è insomma faccio vedere i portaggi che erano che ti lasciano in un certo senso senza parole perché su cui faceva delle domande assai scomode che dovrebbero fare gli altri giornalisti che in realtà non non fanno per nulla bene lui nel 2001 ha dopo che ha scoperto una cosa su forza italia se andate sul sul sito punto stefano salvi punto i che dopo vi spiegherò per bene che il di particolari di questo sito scoprirete perché è stato è stato licenziato oppure basta che andate a cercare su google e lo scoprirete lui però cerco di spiegarlo in poche parole lui aveva scoperto che un certo già stefano friggieri è stato condannato a sei anni di reclusione di di reclusione per corruzione e forza italia all'improvviso aveva prelevato questo 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 condannato che doveva stare nient'altro che in galera 15 stranamente forza italia lo preleva e lo manda in politica però in un altro posto lo conosceva una cosa veramente da politica sporca sporchissima come l'altronde esiste anche adesso come sempre esistita bene lui andò da ricci che ci aveva impedito di fare il servizio perché era comunque sia contro il partito di berlusconi guarda caso e salvi si infuriò la mano da quel paese e quindi ciao ciao televisione poi quello succede da dall'anno dopo iniziò a fare teatro in cui spiegava le diciamo le porcherie dei politici eccetera eccetera nel 2003 va beh questa è una cosa meno importante rispetto al resto ho rifiutato la partecipazione all'isola dei famosi e perché è e dopo c'è in sé per sé c'è un reality un reality spazzatura spazzatura anche quello e poi nel due credo nel 2006 2007 iniziò a gestire un blog che ripeto è www.stefanosalvi.it in cui lui faceva le stesse cose che fece a striscia la notizia dico faceva perché va bene più la col video lo lo scoprirete perché faceva le stesse cose che faceva con stessa notizia cioè servizi servizi di senza senza parteggiamenti nel senso che realizzava delle inchieste delle inchieste al limite tipo quella del professor russer oppure della della ford affair che è più famosa oppure i tecnici informatici quella con due fu anche malmenato anche dai dalle guardie del corpo di del ministro alfano insomma ve lo vi consiglio di andare a vederle bene allora io faccio questo video perché nel dal 2015 in poi c'è questa cosa strana allora lui nel 2015 aveva anche realizzato un programma che si chiamava si salvi chi può come i suoi spettacoli teatrali e evitava in studio personaggi con cui affrontare questo tema politico l'altro questo e quell'altro però alla fine alla fine di questo programma dal 2015 fino adesso che siamo nel 2016 stranamente il blog suo non viene aggiornato questo io mi chiedo perché non ne viene aggiornato quindi la stessa la stessa domanda che la gente si faceva dal 2001 al 2006 ovvero che fino a fatto stefano salvi ex vice gabibo eccetera eccetera io me la faccio adesso perché il suo blog v.stefanosalvi.it non è più aggiornato ho provato a fare delle ricerche su google ma a volte anzi raramente capita che neanche su internet trovi informazioni adatte a te quindi ve lo chiedo a voi che state seguendo questo questo video che fine ha fatto stefano salvi e ho saputo che a gennaio c'è partecipato uno spettacolo non mi ricordo dove però altro non so spettacolo con risate ma proprio so so poche niente quindi vorrei sapere che che fino ha fatto perché non aggiorna più il suo blog perché non fa più più inchieste io non ho niente da dire volevo solo solo sapere questo e quindi datemi delle risposte se se sapete queste informazioni vi ricordo che tra l'altro lui anche su facebook lui l'ultimo post che ha scritto era 15 luglio c'è data del suo compleanno in cui ringraziava gli utenti ma altro non scriveva quindi se voi sapete fate sapere me che fino a fatto perché vorrei continuare a seguirlo questo è tutto ciao a tutti da nicola al prossimo video ciao ciao